Sono 918.685 gli abruzzesi vaccinati. Di questi, 623.700 hanno ricevuto la prima dose, mentre 294.985 sono vaccinati con due dosi. Questi dati, resi noti dalla regione Abruzzo, delineano un quadro di accelerazione sulle vaccinazioni con una media di circa 12.000 vaccini iniettati ogni giorno, che consentono di coniare lo slogan Abruzzo a mille all'ora veloci contro il Covid. I numeri ci dicono che l'Abruzzo fra la metà, la seconda, la terza settimana di agosto raggiungerà l'immunità di gregge. Questo lo dicono i numeri, insomma, che fino ad oggi ci stanno supportando. Io dico che si sta facendo veramente un grande lavoro con l'aiuto di tutte le asle e con i tanti medici, il personale sanitario, insomma, tutte le varie maestranze a vario titolo stanno contribuendo. I dati danno l'Abruzzo come terza regione per dosi somministrate su dosi consegnate. Prima regione italiana per posti letto di semiterapia intensiva attivati, prima per interventi di pronto soccorso e seconda regione per posti letto di terapia intensiva ha attivati. Ma l'Abruzzo è anche la prima regione a livello italiano per sequenziamento del virus. È stata infatti la prima che ha fatto screening di massa dopo la provincia autonoma di Bolzano. Prosegue la campagna di vaccinazione, la prosegue così come è stabilito nel nostro cronoprogramma, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà riguardo al vaccino AstraZeneca, ma in grado immediatamente di riprogrammare e rimodulare. Con AstraZeneca abbiamo vaccinato davvero migliaia di persone senza avere problemi. Ora qualche caso c'è stato e quindi tocca, diciamo, all'AIFA e al Comitato Tecnico Scientifico tirare le conclusioni. Andando verso l'immunità di Greggio c'è anche da pensare al dopo come sarà riorganizzata la rete ospedaliera. Secondo il Piano Nazionale della Resilienza la possibilità di avere ulteriori 36 strutture su tutto il nostro territorio divise attraverso 8 ospedali di comunità e 28 presidi dove si può accedere per poter ricevere dei test e delle analisi e quindi seguire un programma di sanità di prossimità. Grazie. Grazie.